Muoversi. Infomobilità in Campania. Sulla 2 del Mediterraneo fino al 30 novembre, per lavori di manutenzione ordinaria nella fascia oraria compresa tra le 22 e le 6, segnaliamo che ha reggiata ridotta tra le uscite Salerno Centro e Ponte Cagnano in entrambe le direzioni di intratti saltuari. Il cantiere è sospeso i giorni festivi e prefestivi. Sulla strada statale 145 Sorrentina dalle ore 22 del 14 e del 15 novembre, alle 6 dei giorni successivi, per lavori chiusa la Galleria Santa Maria di Pozzano in entrambe le direzioni. Il traffico è deviato sulla viabilità urbana del comune di Vico e Quense. Sulla tangenziale di Napoli dalle ore 22 del 13 e del 14 novembre, alle 6 dei giorni successivi, per lavori chiuso lo svincolo zona ospedaliera in uscita in entrambe le direzioni. Sulla tangenziale di Salerno fino alle ore 17 di mercoledì 15 novembre, per lavori careggiata ridotta sulla rampa che da fratte immette sulla 2 del Mediterraneo. Dalla redazione Muoversi in Campania, Emanuela Belcuore.